12 punti raccolti in 15 partiti dalle Rimini non hanno soddisfatto Giorgio Grassi, tanto che è maturata martedì la separazione da Renato Cioffi, a seguito anche del disastroso capò incassato dall'Arzegnano. Al suo posto si è seduto sulla panchina delle Romeo Neri Giovanni Colella. Ci vorrà tempo per creare una sinergia nello spogliatoio, passo fondamentale secondo il neo allenatore per raggiungere la salvezza in Serie C. Rimini sicuramente diverso da quello che c'è stato nelle ultime partite, io penso che in questi frangenti bisogna recuperare soprattutto la voglia di combattere, questo viene solo con un recupero dell'autostima che adesso è piuttosto bassa, come ho detto prima non penso che la squadra sia inferiore ad altre, ha solo bisogno di recuperare un attimino di fiducia, tutto qua. Novità anche per la carica da direttore sportivo, ha salutato i romagnoli Rino Danielli per far spazio a Divano Pastore al ritorno in bianco rosso. No, io credo che sia presto per pensare agli under, poi come dicevo prima in conferenza, per me i rimini in questo momento, i giocatori rimini sono i più forti del mondo e mi auguro che in queste quattro partite possano dimostrarlo, in modo che il lavoro da fare sarà minimo. Ove mai non fosse così è chiaro che cercheremo di non farci trovare impreparati.